Noi siamo anche stasera, partiamo da merito, R, E, finale e il terzo elemento. Ok, il merito può essere anche tipo il merito accademico, credo. Ok, sì. Prendersi il merito di qualcosa significa attribuirsi una... Sì, sì. Oppure è merito tuo, è tuo... Sì, se non mi vengono. O qualcosa che è merito. O di merito, di merito. Tipo una borsa di studio può essere di merito, capito quello che intendo? Sì, un premio per il merito. Ok. Al merito di qualcuno, si dice. Come per dire... Oppure merito... Merito, io me lo merito, io... Merito è una... Cosa altro di merito? Di conoscenza, forse, una cosa del genere. Ok. Quindi... Quindi... Il merito a questa cosa. Ah, ok, riguardo... Relativamente. Relativamente. È vero. Sì. Bella. Potrebbe essere. Oppure... Merito. Perché sto pensando altre cose di merito, ma non mi viene in mente nulla. O anche in relazione. In relazione. Merito, in relazione. In merito. Cosa hai da dire in merito? Relazione, relazione. Siamo? Che facciamo, Carolina? Compriamo il terzo elemento. Ok. Allora, dimezziamo. 295. Ed ecco il terzo elemento. Storia. Relazione di storia. Sì, più che relativamente, sì, ci sta. Relazione. Sì, se no, la storia anche... Storia recente, storia... La storia di vita, storia di... La storia che si ripete, storia... La storia, anche la trama. Sì. Oppure... Ah, è chiuso come favola. Sì, oppure inventarsi una storia, quindi una cosa falsa. Sì, una favola. Storia, storia di... Qualcosa che c'è di storia, una battaglia di storia. Di reazione, no, vengo. No, con merito, no. No, forse è meglio in relazione. Sì. In relazione. Allora, il tempo è scaduto. Carolina, ci siamo. Qual è l'ultima parola di stasera? Relazione. Togliete pure le cuffie. Relazione. Allora, merito e relazione come la legate? Si dice in merito a qualcosa, quindi in relazione a qualcosa. E una relazione di storia. Una relazione di storia. La scuola. Sì. Una relazione. Una relazione di storia. Oppure anche... Ah, una relazione è una storia. Avere una relazione, avere una storia. La parola di stasera? Sì. Vale 295 euro e porterebbe le ragazze vicino al record, quanto a percentuale di parole ultime, indovinate qui. Merito e storia sono legate da... Sono legate da... Sono legate da relazioni. Solo legate da relazioni.